Archiviata con successo la diciottesima edizione di Fattorie Aperte, l'appuntamento con la natura, un modo per avvicinarsi e conoscere il mondo agricolo e i prodotti tipici, un progetto promosso dalla Regione Emilia Romagna. Tante sono state le iniziative sparse in Regione tra le 139 aziende agricole che hanno aderito all'iniziativa, tra queste anche molte del territorio provinciale di Rimini. Tema centrale di questa edizione è la biodiversità, nell'ambito della quale molte delle fattorie partecipanti hanno programmato iniziative specifiche realizzate in collaborazione con la rete dei centri di educazione alla sostenibilità e poi tante e diverse attività ludiche rivolte ai più piccoli e alle famiglie, tra degustazione e acquisto dei prodotti locali, approfittando di un pranzo in campagna. Noi puntiamo tantissimo a questo e grazie all'iniziativa di Fattorie Aperte, puntiamo tantissimo perché facciamo toccare con mano da dove nasce il prodotto che loro mangiano, e che loro bevono, perché è importante, perché tutti fanno del gran marketing per vendere un prodotto, ma io penso che fare vedere da dove si fa una pianta e poi da dove si raccoglie il frutto è tutta un'altra cosa.